Grazie Vicepresidente. Passiamo all'oggetto numero 32, visita di alcuni consiglieri regionali presso l'ospedale da campo situato al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Prego Consigliere Pastorelli. Grazie Presidente. Parliamo sempre dell'ospedale da campo ma evidentemente sotto un'altra forma quindi chiediamo e ci riferiamo alla visita di alcuni consiglieri regionali che sarebbe stata effettuata presso l'ospedale da campo situato al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Dalla stampa quotidiana locale si appreso che alcuni consiglieri regionali lo scorso 19 febbraio 2021 sarebbero entrati nelle strutture dell'ospedale da campo situato in Perugia presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo sempre la stampa locale i consiglieri di cui sopra asseriscono di aver ricevuto l'apposita autorizzazione di entrare dall'esercito italiano che presidia la struttura. Considerato che il dottor Marcello Giannico, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, avrebbe dichiarato che i consiglieri regionali non avevano alcun permesso per entrare nella struttura. L'esercito italiano avrebbe smentito quanto dichiarato dai consiglieri regionali affermando che non ha rilasciato alcun permesso agli stessi, ma li avrebbe bensì indirizzati presso la direzione sanitaria per interfacciarsi con essa al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria. Al direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia non sarebbero pervenute richieste di accesso da parte dei consiglieri regionali e tantomeno risulterebbe agli atti. Il dottor Giannico avrebbe sostenuto che a seguito di una eventuale autorizzazione i consiglieri non sarebbero potuti entrare senza essere accompagnati dal personale preposto. Tutto ciò premesso nella mia illustrazione, Presidente, interrogo la Giunta regionale e l'assessore Coletto in questo caso per sapere se i consiglieri regionali abbiano ricevuto l'autorizzazione per entrare nell'ospedale da campo da parte dell'azienda ospedaliera e o dall'esercito italiano che preside la struttura e se a seguito dei fatti avvenuti in data 19 febbraio 2021 si sia andato incontro ad un eventuale rischio epidemiologico. Grazie. Grazie, Consigliere. Prego, Assessore Coletto. Grazie, Presidente. Nel parcheggio Taramelli sono attualmente presenti due strutture campali, una di proprietà dell'esercito italiano, attualmente operativa e sotto responsabilità del personale militare, e l'altra di proprietà della regione dell'Umbria, ad oggi inattiva. L'area dove insistono le strutture di qui sopra è presidiata da militari che comunque non garantiscono il controllo degli accessi dentro l'ospedale da campo di proprietà regionale. Per quest'ultimo, infatti, al fine di preservarlo da furti o accessi non autorizzati, è stato attivato un servizio di vigilanza in capo alla Vigilanza Umbra Mondial Pod, il cui personale consente l'accesso alla struttura solo previa autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria e dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. Come la relazione del Servizio di Vigilanza Umbra Mondial Pod, in data 19 febbraio ultimo scorso, alle ore 15.30, si recavano presso l'ospedale da campo della regione dell'Umbria quattro consiglieri regionali, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, i quali sono stati fermati da due dipendenti della suddetta azienda, che in quel momento si trovavano all'interno della struttura per allestire la segnaletica e la cartellonistica interna. Tale relazione è supportata da un'analisi documentale presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, dalla quale si evince che non risultano pervenute richieste di accesso alla struttura campale in argomento, né risultano rilasciate autorizzazioni in merito. Si fa presente che il comportamento dei consiglieri non li ha esposti ad alcun rischio epidemiologico, in quanto non erano ancora stati trasferiti nella struttura in questione i pazienti infetti. Si puntualizza comunque che tale modus operandi risulta poco responsabile, in quanto i quattro consiglieri non erano preventivamente a conoscenza di cosa si stava facendo all'interno della struttura dedicata alla cura del Covid. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Pastorelli. Sì, la ringrazio Assessore Coletto perché penso che ha in qualche modo fatto un quadro che riporti alla realtà dei fatti perché poi questa cosa ha generato anche un pochino di curiosità, sia generata dal fatto comunque degli articoli a mezzo stampa e quindi apprendiamo che non ci sia stata nessuna autorizzazione dei consiglieri regionali che si erano recati verso il posto e sono addirittura documentazione e la relazione della vigilanza Umbra che è diciamo in qualche modo responsabile del controllo degli accessi. Quindi c'è un'ampia documentazione su questo. Rimango basito ovviamente garantendo l'accesso quindi ispettivo da parte di tutti i consiglieri regionali. Ne abbiamo tutti questo diritto ma in alcuni casi quando ci accingiamo ad avvicinarsi specialmente in questo periodo presso queste strutture magari avrei gradito che i colleghi avessero adottato in qualche modo delle modalità diverse da queste che ci vengono in qualche modo rappresentate da lei, Assessore. Quindi la ringrazio per aver riportato in un quadro di realtà questo episodio e invito magari tutti noi, cominciando da me stesso, ad avere un pochino più di prudenza e di attenersi comunque in qualche modo alle regole. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 33. Continui disagi dovuti a persistenti fettori, miasmi e sgradevoli emissioni od origine a cui è sottoposta la comunità di Calzolano di Umberti de Perugia. Intendimenti della giunta regionale al riguardo? Illustra il consigliere De Luca. Prego. Grazie Presidente. Questa che presentiamo oggi è una vicenda nota e che viene da lontano. Tutti quanti noi mi auguro che almeno concordiamo su un aspetto, cioè che la condizione che questi cittadini nell'area interessata di Calzolaro e Trestina è causata da una situazione che oggettivamente va a incidere sulle loro vite. Quindi con la presenza di emissioni od origine che più volte sono state certificate e convenute dagli organi ufficiali. La questione è stata particolarmente sentita e sia invivibile, lo ha accettato la stessa ARPA che nella sua relazione a seguito dei monitoraggi effettuati nel 2016-2017 ha evidenziato numerose criticità e le stesse criticità sono state riscontrate anche dalla ASL nell'agosto 2017, documentando problematiche legate alla salute psicofisica delle persone, a criticità che sostanzialmente sono state più volte sollevate anche in merito a attività economiche, produttive, imprenditoriali, attività di ristorazione, attività ricettive. Nell'interrogazione che abbiamo presentato sono stati citati, è stata fatta una cronistoria ripercorrendo alcuni passaggi, quindi il leader autorizzativo che ha portato nel 2015 a un ulteriore ampliamento di questo impianto per un ulteriore quantitativo di 50.000 tonnellate, che quindi ha sostanzialmente quasi raddoppiato il precedente, andando a aumentare la percezione da parte dei cittadini. Non dimentichiamo che questa questione fu affrontata nella scorsa legislatura con una mozione presentata dalla loro maggioranza e votata anche dalle forze politiche di centrotestra. Il problema a distanza di anni continua a persistere, sostanzialmente l'unica differenza che è stato dimenticato da chi prima ne continuava sistematicamente a parlare in Consiglio regionale. Ci troviamo di fronte invece a una situazione che è in pieno centro abitato a 300-350 metri da un asilo. Quindi è giunto il momento che la politica dia delle risposte, è giunto il momento che si faccia carico di quelle che sono le situazioni che vengono poste dai cittadini e che vada fatto un'azione di governance del territorio e sostanzialmente mettendo in campo direttamente le soluzioni che ormai i cittadini aspettano da anni. Quindi chiediamo sostanzialmente con questa interrogazione di fare qualcosa se si ritiene percorribile una revisione autorizzativa e delle prescrizioni e quindi quali interventi si intendano mettere in atto per risolvere questo problema. Andando definitivamente a risolvere questo problema od origenio che, ripeto, viene sistematicamente posto all'attenzione della politica da parte dei cittadini. Con poco riscontro. Grazie, Consigliere. Prego, Assessore Morroni. Grazie, Presidente. Consigliere De Luca. La situazione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ubicato all'interno della zona industriale artigianale in località calzolario di Umbertide è seguita con molta attenzione dall'ufficio competente, anche per il tramite di ARPA Umbria che effettua controlli periodici. La zona industriale artigianale sita nella frazione di calzolario è caratterizzata dall'assenza di zone filtro, non prevista dallo strumento urbanistico e pertanto la sua ubicazione si trova all'interno del centro abitato e a ridosso di abitazioni. Dato il particolare contesto ambientale, ARPA Umbria nel periodo maggio 2016-marzo 2017, coinvolgendo anche la popolazione con specifici questionari, ha provveduto ad effettuare una serie di monitoraggi presso la frazione di calzolario relativi a monitoraggio sistematico degli odori, monitoraggi tramite sistemi di olfattometria dinamica, monitoraggi con sistemi multisensoriali, confermando che in concomitanza con particolari situazioni meteoclimatiche, da luni i recettori possono essere esposti alle emissioni di cattivi odori. A seguito dei monitoraggi svolti da ARPA Umbria, delle segnalazioni provenienti da cittadini e associazioni, l'ufficio aveva già provveduto nel corso del 2017 ad adottare due provvedimenti restrittivi che prevedevano il divieto di ricevere rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani, ritenuta la causa principale dei cattivi odori e la modifica dell'autorizzazione unica, prescrivendo alla ditta la realizzazione di interventi di potenziamento del sistema di aspirazione e trattamento delle arie esauste. Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla ditta e annullati dal Tarro Umbria, che li ha ritenuti lesivi degli interessi dell'azienda. Successivamente a tale campagna non sono state rilevate particolari eventi di particolare intensità e frequenza. A seguito di alcune segnalazioni nell'agosto del 2020, ARPA Umbria ha svolto un accertamento presso l'impianto in questione, rilevando che l'emissione di cattivo odore era connessa al travaso di rifiuti lipidi dal rimorchio della motrice del mezzo di trasporto stazionante nel cortile all'aperto per il successivo trasferimento all'interno dello stabilimento. L'ufficio ha adottato un ulteriore provvedimento restrittivo, diffidando il gestore ad effettuare tutte le operazioni in ambiente chiuso e confinato, come previsto dall'atto autorizzativo. Anche questo provvedimento è stato impugnato dall'azienda con richiesta di annullamento dello stesso ed è tuttora pendente dinanzi al TAR dell'Umbria. ARPA, nell'ambito dell'accertamento sopra richiamato, ha prescritto al gestore, ai sensi della parte sesta bis del decreto legislativo 152 del 2006, di istituire un numero di emergenza al quale i cittadini possano segnalare emissioni malodoranti, un registro delle segnalazioni e delle azioni intraprese per mitigarle e di mantenere in memoria per almeno sette giorni la registrazione del sistema di videosorveglianza già attivo, in modo da consentire la verifica della targa degli automezzi in entrata e in uscita dall'impianto. Nel dicembre 2020 ARPA, congiuntamente ai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Perugia, ha effettuato una visita ispettiva volta alla verifica della gestione dell'impianto, le cui risultanze sono state trasmesse con nota del 21 febbraio del corrente anno. La verifica ispettiva non ha evidenziato violazioni nella gestione delle prescrizioni autorizzative e di legge. Purtuttavia, ARPA ha proposto l'aggiornamento del vigente atto autorizzativo al fine di aggiornare il quadro prescrittivo di esercizio. Dal controllo dei registri di carico-scarico dei rifiuti svolto in sede di verifica è risultato che dal mese di febbraio 2020 non sono stati trattati i rifiuti costituiti dalla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Arpa Umbria, nella nota di febbraio, poc'anzi richiamata, febbraio 2021, conclude proponendo alla Regione di aggiornare l'autorizzazione vigente per introdurre un limite massimo giornaliero e annuale di trattamento di rifiuti organici e ribadire che deve essere esclusa la provenienza da utenza domestica, ovvero non devono essere costituiti dalla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L'ufficio, prima di adottare i provvedimenti, ha ritenuto opportuno convocare un tavolo tecnico con l'azienda, ARPA, Azienda, Unità Sanitaria Locale, Dipartimento di Prevenzione e Comune di Umbertide, per effettuare una valutazione congiunta di tutti gli interventi che potrebbero essere realizzati per minimizzare ulteriormente le emissioni d'origine, determinate in particolare dal trattamento dei rifiuti organici. Nell'incontro di giovedì 4 marzo, l'azienda ha comunicato che sta valutando di presentare un progetto di modifica dell'attuale assetto degli impianti per realizzare un maggiore distanziamento delle lavorazioni dei rifiuti a matrice organica dalle abitazioni più vicine allo stabilimento e un potenziamento dei sistemi di contenimento, aspirazione, convoiamento e trattamento delle aree esauste. Regione, Comune, ARPA e ASLE, ciascuno per le proprie competenze, hanno apprezzato la volontà dell'azienda di incrementare gli attuali presidi ambientali, riservandosi di valutare le soluzioni tecniche e gestionali che dovranno essere compiutamente e dettagliatamente illustrate con la documentazione progettuale da allegare alla domanda di modifica che dovrà essere presentata. L'ufficio regionale si è altresì riservato l'adozione di provvedimenti di propria competenza da adottare a seguito della richiesta di ARPA di aggiornamento dell'autorizzazione vigente. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere De Luca. Io, Assessore, voglio leggere queste parole che furono queste dichiarazioni della campagna elettorale delle amministrative di Umbertide e di chi ha vinto poi quelle elezioni. Oltre al discorso sicurezza, per il territorio di Umbertide, abbiamo le idee chiare. Per ciò che concerne l'azienda Splendorini EcoPartner, che vorremmo delocalizzare in un'area già individuata, addestreremo e armeremo la Polizia Municipale affinché venga da deterrente ai numerosi... No, questa è un'altra questione. Scusate, ma era conseguenziale e non c'era la virgola. Quindi non c'entrava idea della Polizia Municipale. Però per dire che, oltre al discorso sicurezza, la proposta, l'impegno politico che è stato preso, era l'impegno di delocalizzare l'azienda. Ora, a prescindere da quelle che poi è la distanza fra le promesse e la realtà amministrativa, quando si governa una regione o un comune, sono stati presi degli impegni. Io credo che su questa situazione tutti ci stiamo giocando la faccia. E quindi è necessario dare delle risposte che non siano più un tampone, ma che siano delle risoluzioni generali. Io penso che nella scorsa legislatura è stata incardinata una proposta di legge, c'era il Presidente Solinas, quindi una proposta di legge sulle emissioni d'origine. Adesso il Consigliere Carissimi se ne è fatto promotore di un'altra. Io credo che sia il caso di accelerare su questo fronte, perché non è più pensabile che situazioni simili possano continuare a verificarsi o possano continuare a... Io non penso, non ho la soluzione in tasca. Quello che penso che deve essere dimostrato è la volontà politica. Quindi io credo che se bisogna cambiare registro, il registro deve essere fatto con un cambio generale nel percorso di ascolto e di coinvolgimento dei cittadini e di quei gruppi liberamente costituiti che sono i comitati e le associazioni. Quindi la differenza sostanziale che deve essere fatta tra quelli che sono i portatori di interesse e i titolari dei diritti, gli esposti involontari, quelli che sono soggetti che non hanno potuto scegliere di essere esposti a questo tipo di situazioni. Quindi se l'unica alternativa che noi diamo a queste aziende, a questi cittadini è quella di andarsene da quei territori, io penso che la politica ha totalmente, ma totalmente fallito. Quindi io credo che non mi ritengo soddisfatto nella misura in cui c'è la necessità, ripeto, di un intendimento politico, perché oltre la tecnica, oltre quello che è, diciamo, che sono, diciamo, l'attività di analisi, l'attività oltre i dati, ci deve essere una piena volontà politica da parte di questa maggioranza che deve essere coerente e ovviamente da parte del, diciamo, delle amministrazioni locali che non possono semplicemente fare copia e incolla degli atti, ma devono iniziare a dare risposte. Ormai sono passati due anni e c'è la necessità di dare risposte e che quindi si ragioni al di là degli steccati politici per trovare delle soluzioni che non possono, ripeto, essere soluzioni tampone, ma devono essere delle soluzioni strutturali.